we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia mamma mia cosa arriva oggi ragazzi fra pochissime ore indicativamente alle 10 avremo la nuova patch 8.30 e ragazzi vi posso dire che è qualcosa di assurdo nel video di oggi parleremo ovviamente di questa patch e vi dirò perché è assurda ma parleremo anche del nuovo stile scoperto della skin cuore nero il pirata per intenderci non mancherò però di dirvi un'informazione incredibile che potrà regalare un pass battaglia a tantissimi di voi ne approfondiamo un pochettino ragazzi non vi preoccupate ma però voglio ringraziare tantissimo tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xyuderone nello shop grazie ragazzi per il mega supporto mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi è dai la domandina raga la domandina che ci sta un sacco mi raccomando i vostri commenti qua sotto è una domanda molto molto personale ragazzi che skin vorresti che non hai dai qual è la la vostra skin è proprio che di te la vorrei a tutti i costi la vorrei di brutto la giocherei un sacco se ce l'avessi la mia è lui ragazzi lo rimpiango davvero davvero tanto purtroppo non ho giocato la season 2 di fortnite ho giocato la 1 e ho ricominciato nella 3 e mi sono perso una delle skin più belle in assoluto secondo me indiscutibilmente parliamo ovviamente del cavaliere nero ditemi ragazzi invece la vostra qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vederlo questo tweet ragazzi il tweet ufficiale di fortnite che dice batteries charged batterie cari cariche 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 si l'eroe nel tuo team nell'update 8.30 il downtime quindi ragazzi era già scontato buttano giù i server inizia oggi il 10 aprile alle 10 del mattino ma ragazzi io ve lo dico reggetevi forte perché guardate cosa sto per farvi vedere sprong le dimensioni dell'update della pace 8.30 ragazzi per i giocatori da pc sono quasi 7 giga 7 giga di update non è il triplo dell'update precedente della 8.20 il triplo della 8.10 ragazzi è una cosa assurda 7 giga e 7 per chi gioca da mac 4 giga per ps per i giocatori da playstation 4 giga per xbox 4 giga per switch e ragazzi addirittura per android 2 giga e 98 3 giga dove addirittura dicono tutti i giocatori di mobile che hanno meno di 6 giga di spazio devono cancellare fortnite e reinstallarlo ragazzi questo update si preannuncia qualcosa di devastante devono aver aggiunto roba assurda secondo me comincia finalmente il vivo della season 8 non vedo l'ora di scaricarlo non vedo l'ora di dirvi tra l'altro ricordatevi ragazzi quando ci sono gli update passate sulla mia pagina instagram xuder perché pubblico i leaks proprio la mattina domani cioè oggi sto registrando ieri che però è oggi per voi verso le 10 e mezza quando finisco di scaricare la patch ci sono già i leaks se volete vedere qualcosa skin nuove roba strana sulla pagina mia di instagram li trovate ma andiamo avanti ragazzi molto velocemente perché queste dovrebbero essere me lo auguro le skin uscite stanotte nello shop anche perché sono le ultimissime skin inserite nella patch 8.20 di due settimane fa ancora non rilasciate tra l'altro la piratessa femminile che in realtà è questa non è lui tu sei femmina no è lui è anche nella lobby nella pre lobby quando vai a selezionare la modalità di gioco c'è proprio la piratessa quindi speriamo che queste skin arrivino prestissimo speriamo che siano in realtà già arrivate perché sono veramente super belle per la season 8 stanno benissimo piccone con tanto anche di backpack e come notate tutte e due le skin hanno lo stile personalizzato quindi possono diventare diverse rispetto alla forma base ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra cosa incredibile che è quello di cui vi anticipavo a inizio video ovviamente il pass battaglia gratuito ovviamente perché è ovviamente sei volte di perché parlo delle world cup ragazzi perché a parte che le world cup stanno rapidamente diventando l'evento videoludico più atteso del 2019 una concentrazione di eventi player e roba inerente a fortnite si terrà a new york dal 26 al 28 luglio e verrà fatto nello stadio quenze non so dove cavolo sia ma un leakers pubblica questa ve l'ho fatto vedere perché un leakers a cui io mi affido molto ovviamente un leakers francese che dice ve lo dico in italiano perché non saprei pronunciarlo bene in francese tutti quelli che andranno a visitare quindi non a partecipare ma se volete fare il pubblico alle fortnite world cup riceveranno un tot di v bucks e il pass battaglia gratuito della season 10 perché se ci pensate ragazzi il 13 aprile inizia il primo giro di qualifiche per la world cup e siamo nella season 8 ma siccome sono 10 tornei di qualificazioni si va a finire nella season 10 incredibile ragazzi però è così e tutti quelli che parteciperanno anche come spettatori non chiedetemi in che modo perché appena saprò di più ve lo dirò riceveranno v bucks e pass battaglia della season 10 gratuito se volete andare a vederle ragazzi io ci andrei veramente tanto tanto volentieri questa è un'ottima occasione anche per ottenere appunto un extra ma andiamo avanti e guardate che roba ragazzi stile scoperto segreto o anche il gameplay ve lo faccio vedere della skin cuore nero siamo ovviamente in fortnite cinese e l'ultima fase non è il teschio si chiama barba nera tradotto quella quella scritta lì cinese che vedete vuol dire barba nera in italiano e guardate ragazzi che roba ce l'ho qua ce l'ho qua guarda un po vedete che c'ha uno slot in più lo stile del cuore nero rispetto al nostro perché boh perché i cinesi hanno questa cosa che noi non abbiamo ragazzi tra l'altro hanno anche guardate riguardiamolo un secondo molto velocemente è già stato difficile trovare questo spezzone di gameplay nel fortnite cinese praticamente è come il nostro ma non è un teschio ora io non so se abbiano dei limiti e non possono mostrare dei teschi in pubblico ma ci sono anche due nuove skin e penso che sia uno skin base perché non vedo niente selezionato del nostro fortnite cinese come vedete la skin femminile ha dei tratti somatici molto simili appunto ai ai loro tratti somatici e anche la skin maschile col pizzettino fingardo porca miseria porca eccola qua ragazzi molto molto interessante per chi gioca o chi riesce a giocare dal nostro fortnite con i vpn in cina in realtà ragazzi abbiamo quasi terminato ma come chiusura fa 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 le heli news a terra ragazzi l'elicottero lì a sponde del saccheggio dove stava puntando per tutto il suo tragitto quattordicesimo punto di atterraggio vediamo se adesso con la patch 8.30 succederà qualche cosa io per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video non vedo l'ora di scaricare di vedere davvero la patch di questa mattina vi ringrazio di nuovo mi raccomando codice creator xuderone noi ci vediamo alle 13 live ciao